Sì, eccomi, eccomi, è da tanto che non ci vedevamo, guarda come ballo, guarda oggi questo elenco è già mio Grazie, grazie chat, appreciate it, appreciate it, il Goblino apprezza, ma è il Goblino? No, non può, perché non mi riconosce il viso, questa è una fusione troppo forte, non può crearsi veramente Sono io, sono il Goblin Fazon Allora ragazzi, la gara Rolli è una gara dedicata a Relox che adora andare in bici E quindi ci facciamo ferma, cioè una gara in bici, in prima persona se poi non sbaglio Ma c'era uno che andava avanti Ho visto, già non me la raccontava giusta per niente Ottimo, ottimo, lo adoro, sì Anzi poi le gare in bici Aiuto Sono, 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 mi sono suicidato signore Mi sono suicidato Mamma mia, mi viene da vomitare, mi viene, non si capisce una sega Sono al fan numero uno di Rolli, sono tutti tracciati in memoria Dai, sta cazzo di roccia coi fiori, ti ocane Ma perché? Anzi, anzi, la sto chila Sono troppo veloce, sono troppo veloce Frate, non riesco a prendere l'uomo con bici rosa, non so che sia Ti godo, coglione, coglione Nooo Ho preso il cazzo di, 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 di cosa delle bibite Voglio morire ma è tipo peggio della tele delle torture questa cosa no porca madonna ho preso coso radioattivo se riprendono più che sia crollata non riesco a superarlo un bicicletta se finisci finisci che c'è il pulso andato e lui è il goblino serve subito riacchiapparsi non si non si deve mai più arrivare dietro a j pippo perché vi dritta a sinistra la levetta e gg mi ha spinto mamma mia il goblino è sempre caldo che curvetta guarda lo guarda lo elegante sexy e il coperino niente frate vai addosso che si la tua macchina è finita ancora prima di iniziare no mi faccio sto elenchino è tipo dopo quelli che stanno in chiamata con blu c'è poi mi diverto una fracca a farlo è quello il problema no oddio vedo che si ma porchi per la madonna puttana di cristo ma che è sta curva valse 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 lo vedi che si lo vedi che si valse lo vedi che sia a mangialo 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 c'è che si addobbato pure no è impazzesco se adesso spavola zazza impazzesco me coglioni no la curva dio canaglia maledetto rischiare facciamo quasi malato ad era questo posto del sciù è sì come quelle grande sorpasso si un mico succede succede passi all'esterno ma sei pazzo cazzo lecchami il cazzo arrivo nonno a sti ma te l'ho sbannato a te così no no ah ok bravissimo già marco tocco del passato uscerà anche ai migliori frate ma questa ma che cos'è è la gara tipo dell'atletico mineiro questo di chi so i colori dico è nero e bianco madonna meno male ma ma ti tocca subito perché la madre puttana ma anche con la barba mi dispiace zanzo ma io non ti ho toccato non capisco di cosa stai parlando veramente che si vuole di merda che cancro riga riga macchina rossa macchina rossa butta fuori tutti chi cazzo è non mi di che bamba barba che ha rotto anche il cazzo che ha pianto per pepe s invitato de novo e bamba barba e bamba barba frate bamba barba è un tumore di merda lo fate volare per favore grazie giammo picasso ti osserva in webcam cosa fai ah ma perché li puoi evitare andando così mamma mia signori siete dei maniaci sessuali flore flore ma se noi andiamo di scia li riprendiamo no teoricamente no fratelli ho fatto lo sci raten 6 non l'ho toccato no zi non l'ho toccato ti giuro su dio non l'ho toccato se noi andiamo di scia no ti giuro che non l'ho toccato mi dispiace tantissimo vai 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 so bollente me sto a scaldare so caldo so tornato so tornato tra i grandi so tornato tra quelli che contano mamma mia stima quanto cazzo stai andare ma che è ma che fate il bug di passare sul muro mamma mia che si ma che fa ma non è in bar guarda e sei rimesso dritto ma com'è possibile no anzi non me di un cazzo per la madonna puttana lo sai perché le api non è che sprecano tempo a spiegare alle mosche perché il miele è meglio della merda quindi non mi parlare per dio del cristo mamma mia te stavo per i fallo scirate uomo giallo è duro è durissimo fermatevi fermate il blocco giusto ero secondo me ha preso in pieno sto figlio di troia arcoddio ha vinto stiver mi viene da vomitare mi viene vabbè seconda posizione per giammo picasso è ottima le prego guidate umanamente guidate umanamente vi prego guidate umanamente vi prego alesso binando battuta lemma mamma che veramente lemma si può buffo di cancro lemma un cancro non solo cosa di coglioni amiche lo cerchi in chat subito grazie mamma ma che divertimento di nuovo di nuovo ma porco addio ma a me se c'è una cosa che mi fa impazzia è che si a me che si mi fa fa impazzia perchè poi non lo prendiamo del merda ma proprio non lo prendiamo del merda non so frenare curva L di no porco ze zebroi dalla quarta curva dove mi vieni nel buco del culo forse oh forse è arrivato il momento dei capi che devi rallentare mamma mia il tocus elegante a corretto ma se non mi stanno non sarà fa venuto se mi tocchi un'altra volta perché devi provare a sorpassare in una frate e peggio di qual è quella quella corta monza mamma mia signori colino il grosso beh con amore signori a monte carlo è cioè ma ti pare che sto sto lì in uno strettoio che è più stretto del buco del culo mio e me devi provare supera in curva l'hai lisciato cose che succedono anche ai migliori non hai mai visto Hamilton che va a darpi stop evoliscia cioè nel senso è bello abbiamo vinto un mondiale con quella roba ma che stai a dire questa cosa davvero ma arriva arriva uomo pera uomo triste sta arrivando è più caldo che mai che compie il miracolo oddio guagna zazza se la prende guagna zazza se la prende beyblade io ti giuro che si a casa tu non se usa il freno te prego beh oddio abita a Napoli aaaaaa mamma mia non l'avevo vista aiuto per guardare la chat si opera intanto io guardo la chat quando faccio le gag ma che cazzo la guarda fatto ridono a qualsiasi puttanata è un ultimo giro bollente vado vado eh nooo bello padoffo 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 mi fai passare padoffo fammi passare andiamo di scia padoffo andiamo di scia traste il processo e no ti rivengo addosso cioè non è una minaccia ma mi conosco madonna eh zazza eh hai sbagliato la curva hai toccato un goccio il muro e ti sei impuntata la macchina oh pippo aprito tutto mi ha doppato pure a me ma ha tolto un pezzo e non riesci a piacere non succede ok mamma mia era arrivato prima era arrivato era arrivato prima mi spiace è arrivato prima se non mi ha addosso un'altra volta un'altra scammata all'ultimo giro davago quello che mi arriva davanti uomo uomo grande macella ecco no ma l'abbiamo già fatto sono un coglione ah ho capito pure già quale gara è e questa secondo te due giri durano tanto va bene mamma mia che ho spinto che curvetta signori che curvetta mi sta venendo no ma cazzo mio cane bravo napoletano bravo napoli oh zazzo ma sei di quello là davanti eh big bro da pazzi big bro vola 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 il che si vola vola il che si cazzo troppo volato porco dio se è nata a scampia se è nata ma zaguagna zazza signori il mago come fa guidare umanamente con queste con queste macchine e vai quando non c'è nessuno che mi addorba troppo mega luce ma forse quello ma sono orribile fra qua tenere la seconda posizione sarebbe la crema troppo utile questa seconda posizione eh mamma hanno ripreso madonna che ha già amato mamma mia ha già amato un tumore vabbè vaffanculo uomo macella chad marco tocco chad marco penultimo penultimo punto esclamativo boost punto esclamativo play lo banno vabbè lo faccio volare io dai vanno bene almeno almeno è una gara nuova rispetto a a double and no si sta a fermi lo spawn almeno non è la double and ha rotto le palle anzi no aspetta devo fare prima una cosa no tanji why tanji why tanji no no i ragazzi e che è successo no no scusate perché stanno tutti qua no 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 cazzo ne so eravamo tutti zanzo si è fermato mi sono fermato anch'io l'emma si è fermato mi son fermato pure io che cazzo ne sono bella vai via e stile che sta gareggiando ragazzi e come ci sono arrivato il dicesimo io stile sta gareggiando ragazze stile il mio conda il mio countdown non era per un blocco era per chiudi applicazione a tu così a vivi la così a massima come ci sei arrivato la madonna ma sto vedendo cose molto strane ragazzi un tizio sta andando per colline senza un motivo è volato via c'è un vero io ah ok ho preso un palo che ovviamente ha smosso la mia macchina da un ragazzo no no è la macchina di batman è il mio condo vado vado mi sono dovuto abbannare wow ahahah sta arrivando sta arrivando porco dio che ve lo fa un frontale di okane e bartroke batman diventava steven king diventava no steven ho king qual è no gianmarco mi sa che sta per chiuderlo e invece no mi sei vicino che sei quanto manca sta cazzo di corsa lui non siamo neanche a metà ah sì all i want to say sopracciglio di ancelotti sta situazione c'è ben una faccia della roccia la roccia che fa sopracciglio tu immagina no 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 sai chi devi pensare immagina barack obama unito a tano se dwin johnson o muori da eroe o muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare patoffo so che sono primo in una gara e sto guidando da solo nella mia cameretta da sola grande moto lo dici no no come si usano cosa che si sarà qui amo da mister perché c'era la neve non si potevano fare le cose sono sicuro che la invitiamo per la neve che si si può andare via terra basta che poi appena sei sotto al check point attivi le ali e busti iperbole dello sdrogo si si so caldo so caldissimo niente grande macchina perché stanno tutti fermi qui o no perché so fermi sono aspetta mi aspetta così debotto ma mamma ricama c'ho la gang del gate ma ma c'è pure mi madre c'è di nasa due strano facciamo sto mondiale di tokyo frate facciamo sto mondiale di tokyo frate no zucca per cazzo no eh vabbè dai veramente sono un più di p***o dai raga avevo proprio voglia di farmi una level agenda stasera oh dai si inizia inizia adesso l'elenco grazie